Salve gente, sono Mandicube e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di questo let's play Oggi ci occuperemo di rimettere in sesto questa povera farm E' la prima farm decente che abbiamo costruito in questo let's play Quella di Polly non la conto anche perchè si è già rotta un'altra volta E mi pare comunque il caso di rimettere a posto Soprattutto perchè era quella che produceva i villager ma sono stati disintegrati quando il chunk è stato completamente corrotto e ripristinato all'originale Io so che c'è gente a cui il bug che capita è che il chunk diventa inarrivabile Allora deve andare con mcedit e ricaricarlo da zero Invece a me no, a me si creano altri chunk che non esistono, non ho neanche io ben capito perchè Ok, finiamo quindi di scavare la fossa del mio spawner Come vedete useremo il classico metodo E già che ci siamo apporterò qualche piccola miglioria a strada facendo Una fra tutte, me ne fregarò altamente di che cosa cavolo fanno zombie villager e Polly No scusate, i baby zombie e i Polly Semplicemente andranno ognuno per i cavolo Andranno tutti nello stesso posto e amen Ok, qua rimettiamo questo Voglio più o meno fare la decorazione interna che c'era l'altra volta Cioè prima che si distruggesse tutto Non dovrebbe essere troppo difficile Addio cartelli Purtroppo erano tenuti insieme da un blocco che in realtà non doveva esistere E i problemi della vita Ok La, qua abbiamo questo Questo E questo No, era così Per fortuna ho portato l'ascia dove l'ho messa però Ok Spacchiamo con l'ascia Prendiamo i blocchi scuri Ho l'inventario già un po' pieno di roba Forse non ho fatto, non ho calcolato benissimo Qua ci andrà la, come si chiama La lampada Che però per il momento non abbiamo Manca proprio il buco E' proprio il fatto che mi si è completamente cancellato il mondo E sono quelle cose che fanno un piacere assurdo Ok Ancora qua Bianco In quest'angolo Credo In realtà sto andando anche un pochettino A cavolo ma Credo che a questo punto faccia anche piacere un po' a tutti Ok Questo come cavolo è fatto Ah ok Questo va ancora giù di qua Qui ci va la lampada in mezzo Ok Cominciamo un attimo a scavare Allora Prima miglioria che voglio portare Allora Quando abbiamo costruito questa farm Purtroppo eravamo completamente privi di Ghiaccio Di qualunque tipo Ora invece abbiamo un bel po' di pacche d'ice Quindi Credo proprio che Bloccherò quest'acqua qua Ok E tutto questo Terra che abbiamo sotto Verrà sostituito con pacche d'ice Fatemi un attimo Creare una piccola scala per risalire Ok Giusto per Ok Giusto per poter posare la roba Perché comunque Ho preso una quantità abbastanza eccessiva di materiale Ho considerato più di quello che mi serviva Tipo queste slab Lì c'è la terra Questo per il momento non mi serve un fico secco Dovrebbe andare Ok Ah e mi prendo le lampade È giusto Almeno le posso piazzare È una buona idea farlo subito Ok Dove l'ho messo? Qua Sono un pochettino disorganizzato Sto girando l'episodio effettivamente un pochettino in fretta Ma questa è una cosa che voglio fare E anche se ho poco tempo in questo momento Credo che sia il caso di farla Ok Questo blocco non sapevo cosa facesse lì Prendiamo l'altro legno Quello scuro Come ho fatto? Tac Così Così Mi sono appena chiuso la via per andare Non è vero? Non importa Non importa Ok Piazziamo questo Se è sbagliato Correggerò Più tardi Cominciamo a sostituire qua Con il ghiaccio Va Probabilmente è meglio Anzi Primissima cosa da fare Blocchiamo quest'acqua Quest'acqua Era messa così Ok Ed è fatta per aspirare Gli zombie villager Da dov'è? Non capivo da dove cavolo Arrivasse Ok Questo pezzo esiste ancora Miracolo Però lo sostituiamo con ghiaccio Ok Questo Lo sostituiamo con ghiaccio Ho premuto F Per sbaglio Scusate Ok Questi due Li spacchiamo un attimo E ci mettiamo sotto del ghiaccio Ora che ci penso veramente Non sono del tutto sicuro Che il ghiaccio Abbia effetto sotto le scale Me ne importa qualcosa A quanto pare no Quindi Piazziamo ben bene Uno Due E tre Ghiaccio Eccoli Questa però se la piazzo dritta Forse è meglio Tac Ci dovremmo essere Ora mettiamo La slab lì sopra Che purtroppo è andata Perduta per sempre E mettiamo questo Ok Lo scivolo Dovrebbe essere quasi a posto Non abbiamo più acqua Quindi siamo liberi di scavare Come cavolo ci pare Piace Però come ho detto Voglio sostituire tutto Con ghiaccio Sta per calare la notte Datemi due secondi Per saltarla Ok Notte Mandata via Scaviamo Un attimo E mettiamo il ghiaccio Al punto giusto Devo rifare Più o meno La stessa struttura Che avevamo Nella farm precedente Che in realtà È la stessa Identica farm È solo andato Distrutto un pezzo Perché sì Il gioco Ha deciso Che Mi è crashato il gioco E ha deciso Di distruggere questo pezzo Come stavo dicendo Ad alcuni Capita il bug Che il mondo Gli viene cancellato Il pezzo diventa Completamente inaccessibile E deve ripristinarlo Con MC E da me invece Sparisce semplicemente Non ho idea Se sia lo stesso tipo Di bug Crash O quello che cavolo è Però a me è successo Quindi amen Ok Tutto questo legno Verrà completamente rimosso Perché è diventato Inutile Non serve più A nulla Tanto che adesso Lo sostituiamo Finalmente con il ghiaccio Ok Quello Non è che me ne importi Così tanto Di quel pezzetto Ok Mettiamo il ghiaccio Che ci serve Ne ho ancora un bel po' Ho fatto scorta Negli scorsi episodi Quindi ne abbiamo Non finire Ho finalmente trovato Un modello di farm Di Come si chiama Di Di Blaze Che funziona Ho dovuto crearlo io Fondendone tre Questo mi pare giusto Ma Link Probabilmente sarà O il prossimo episodio O comunque Uno dei prossimi Qui sto facendo Tubi Senza fine Ok E mi hanno fatto notare Nello scorso episodio Che ho costruito Un Ascensore per oggetti Di Robitobi Senza citarlo E Tutti i fix Che ho fatto Al granai Sono Stati creati Da Ryan Adams E anche lui Mi sono completamente Dimenticato Di linkarlo Per questa ragione Oltre a dirvelo adesso Dato che stiamo Per costruire qualcosa Stiamo comunque Per costruire qualcosa Fatto da Ryan Adams Troverete Il link Alla cosa di Ryan Adams In questo episodio E a Robitobi Vi chiedo scusa Ho messo i link Effettivamente Che mancavano Nello scorso episodio Questo viaggio Ero convinto Di averlo già messo Invece no Ok Anche se viene Un pochettino Arlecchino sotto Non mi interessa La cosa che voglio fare È metterlo a posto Dal punto di vista Delle funzionalità Un giorno Questa farm Sarà anche bella Ma quel giorno Sappiamo tutti Posso continuare a mentirvi All'infinito Ma sappiamo tutti Che il giorno In cui questa farm Sarà bella Anche esteticamente È ancora Molto lontano Non perché sia difficile Renderla bella Semplicemente Sono sbadato All'inverosimile E Non ho senso estetico Quindi ogni volta Che c'è da fare qualcosa Che richiede senso estetico Tento di evitare Di farlo Cosa che alla fine È un problema Più per me Più per voi Che per me Mi dispiace Di questo Ok Questo è fatto così A quanto pare Così Ok Questo dovrebbe scendere In questa maniera Ok È un disegno Semplicissimo Però Se si è ritardati Quanto mai È difficile Riprodurlo Ok Blocco qua Blocco qua Blocco Blocco Qui due blocchi Semplicemente Per fare Il muro Ok Qua così E Qua così E anche così Che grande Commentare Che grande commenti Che sto dicendo In questo momento Su un disegno Semplicissimo Che probabilmente Tutti voi Avreste saputo fare In un decimo Di secondo Mentre io ci sto mettendo Un episodio Letteralmente Ci sto mettendo Dieci Ci ho già messo Dieci minuti A fare Anche solo questo Ok Qua abbiamo il ghiaccio E dovrebbe essere Sistemato Qua Cosa è successo Ho distrutto Dell'acqua Che era importante Sì Ho distrutto Dell'acqua Che era importante A quanto pare La Ripristiniamola Aspiriamo tutto E Qui Perché non è caduto Ok Questo credo Sia caduto Tutto Che roba Strana Qua Prendiamo L'acqua In questo momento Da qui Togliamo questi due Che ormai Non dovrebbero più Servire Acqua Ok Ed ora in poi La prendiamo Dal centro Uno qua E Uno qua Taglio In modo Da potervi Mostrare Cose un pochettino Più interessanti Ci vediamo Fra poco Ok Vediamo un po' Cosa cavolo Posso combinare Innanzitutto Ho sostituito I blocchi Che c'erano lì Con ghiaccio Con ghiaccio Packed ice Meglio Il nome inglese Suona meglio Ed è quello giusto Almeno lo posso dire Recentemente Stavo dicendo Ho sostituito Con Il pack ed ice I blocchi Dove andranno I nostri I nostri Zombini E adesso Sto facendo La zona Per gli Zombini Ok Innanzitutto Una cosa Che mi sono Accorto Dalla modifica Dall'ultima Versione A questa E che i miei Zombie Soffrivano Da morire Se il soffitto Non era slab Motivo per cui Adesso trasformerò Tutti i soffitti Che trovo In slab Ok Così Dovrebbero Passare No Meglio Se lo metto No Ok Può andare Era Fatta così Vuoti di memoria Scusate Ok Il colmo Di questa situazione È che Avevo costruito Questa farm La farm Di villager Un po' più in alto Il motivo Di questa scelta È che Non riuscivo A farci stare Gli zombini Avevo fatto Il tunnel Più in alto Ora ho fatto Il tunnel Più in basso Eppure È inutile Perché non posso Dovrei spostare Tutta la farm Il che vorrebbe dire Distruggerla Non mi pare il caso Di fare cose del genere Per il momento Ci accontentiamo Di averla Resa Più Decente In tutti i sensi Ok Blocco d'acqua Messo qua Perfetto Slab sopra Slab sopra E anche qua Da qui in poi Dovrebbe già andare bene Ok Perfetto E qua Direi però La mettiamo così Semplicemente Per simetrias Nel tubo In cui andavano I zombini Nella vecchia farm Metterò Una piccola Modifica In modo da farla andare meglio Ma per il momento No scusate Non farò Una piccola modifica Per farla andare meglio Semplicemente Ho stabilito che Mettere una divisione Per gli zombini E i polli È assolutamente Inutile Quindi Li faremo andare Nella stessa parte E il loro grinder Ucciderà Tutti e due No scusate Ucciderà i polli Ok Ucciderà completamente I polli Mentre lascerà Con due colpi Gli zombini Anche perché Ci ho pensato un attimo Ormai userò Quasi sempre La spada Con looting Il che vuol dire Che non mi serve Neanche Come si chiama No Una spada Con looting E con mending Quindi in realtà Non mi serve Neanche Conservare la spada Ucciderli tutti A mano È Diventato abbastanza Superfluo Ok Ultima cosa E poi ci siamo Tac No ho sbagliato Dovevo metterlo Uno qui in basso Perfetto I miei zombie A questo punto Arriveranno Qua Cartello Dove cavolo vai Sta per arrivare la notte Ed ecco di nuovo il giorno Ho piazzato lì Una piccola cesta E ora Ci occupiamo Di rimettere Il sistema Che avevo messo L'altra volta Per ucciderli Ok Qui una slab Il vetro Lo possiamo far calare Di qua Ormai non ci dovrebbero Essere più problemi Di sorta Ok Dispenser Andiamo a procurarcelo Il fatto che abbia una leva Oh vuol dire che la leva È caduta da là Scusate ma La ripiazzo un attimo Ok Che non sia mai Che me ne dimentico Ok Ho zerato il timer Che uso Per tenere i conti Adesso per sbaglio Quindi Potrebbe Darsi che l'episodio Duri un pochettino Di più Ok Dispenser Sticky piston Un pochettino Qualche repeater Anzi datemi un attimo E li crafto A fra pochissimo Ok Allora Come prima cosa Mettiamo Un blocco Qua dietro E uno qua In questo modo Abbiamo un sostegno Per mettere Il nostro dispenser Mi raccomando Che non sia un Come si chiama Uvia Che non sia un Dropper Ok Il motivo È che se mettete Un dropper Il secchio di lava Verrà sparato Non verrà messo Al posto giusto Ok Diamo questo punto Dietro Sopra Il nostro dispenser E ci piazziamo Uno sticky piston Il blocco davanti Che ho messo prima È già al suo posto Mettiamo a questo punto Una leva La mettiamo Un attimo solo Ah Sono caduto giù Ovvio Dove ho messo L'ascia Ok Ok Colori che devo mettere Allora Scuro Chiaro Chiaro Scuro E blocco Di ferro Ok Stavo facendo Ah si Giusto Vetro Qua In modo che sia Di nuovo chiuso E una slab Pure Stavo tentando Di mettere Una Come si chiama Una leva Da quel lato Più che altro Non mi ricordo Esattamente Dove va messa Quindi direi Di procedere A ritroso Un attimo Allora Ovviamente Cado Devo riuscire A arrivare Lì in cima Ok Mettiamo Un blocco Qui E facciamo Qua intorno Un anello Ok Un po' Troppi blocchi Li rimuoverò Quando renderò Questa farm Presentabile Dal punto di vista Estetico Mettiamo A questo punto Un repeater Qua settato Uno Due repeater Settati a tre Così Ok E qua in mezzo Un pezzettino Di reston Il blocco Che ho messo Qua in mezzo Va sostituito Con uno sticky piston Ok In cima Ci mettiamo Un blocco Così per Farlo andare meglio Reston E reston In questi due punti Ok Qui sopra Mettiamo un blocco Per fare da divisore Hanno modificato L'itbox Della reston Ok Messo al punto giusto A questo punto Qua Li mettiamo Un repeater Posso? All'aggo l'universo Se spacco questo blocco Sì all'aggo l'universo Mettiamolo da qua Ok 1,2,3 Mi manca ancora Un repeater Ai conti Ah si Andava messo qua Credo Ok Se ho fatto bene tutto Ora Dovrebbe scattare Una volta Il nostro Oh Sto impazzendo Abbastanza Sto impazzendo Allora Tac Tac Legno Scuro E Quattro di legno Scuro Così posso passare Decentemente Mettiamo a questo punto La leva Che ho messo E la mettiamo Credo qua Ok Dietro Repeater Ok Ok Ci metto un pochettino A fare l'update Perché ci sono Dei piccoli Bug In questo snapshot Ma Per il resto Va tutto bene Ok Messo tutto a posto E mettiamo Il nostro secchio di lava Che ho preparato prima Lo mettiamo Qua dietro E a questo punto Quando i nostri zombie Arrivano Non danneggiati E trascinati per bene La lava Viene messa solo Per un attimo E viene messo Il dispenser E viene messo Il blocco Mi dispiace Che non si veda bene Purtroppo A causa sempre Di quel lag Che dicevo prima Dei blocchi Che purtroppo C'è in questo snapshot La prossima cosa Che provvederò A fare E riabilitare L'ascensore Per oggetti Sotto Mettendo il modello Di Ryan Adams È diverso Da quello che ho usato Le volte scorse E vedrete perché Adesso Lasciatemi scavare E arriverò sotto In modo da non farvelo più vedere Dopodiché Penso di poter concludere l'episodio Perché più o meno Erano le modifiche Che faccio alla farm A dopo Ok passiamo Passiamo al prossimo modello Di ascensore Per oggetti Questa volta Di Ryan Adams Spero di non aver sbagliato Il nome E che Vi ripeto È quello che ha Fatto le modifiche Alla farm Di Una ribit Che ho Modificato Nello scorso episodio Ho apportato Nello scorso episodio Ok Continuiamo Andare Fino in fondo Non so esattamente Quanta acqua Mi servirà I due secchi Che ho Sono vuoti Quindi probabilmente A un certo punto Farò anche una piccola pausa Per andargli Riempire La quantità d'acqua Che c'è qua È abominevole Perfetto Per il momento Chiudiamo Quest'acqua Che abbiamo qui Con questo blocco In modo da poter Lavorare decentemente Piazziamo Tutto il ghiaccio Anche se in realtà A un certo punto Vedremo che Ne rimuoverò Una parte Ok Arriviamo fino in fondo E qua Abbiamo il nuovo punto Dove andrà È dove stavano I zombini prime In questo modo Quando gli oggetti Arriveranno Verso l'alto Noi potremo vederli Allora Nello scorso video Ho utilizzato Le trapdoor Per far andare Sulle oggetti Mentre in questo Useremo Le scale Lo so Avete visto C'erano le scale Anche nell'altro Però le abbiamo usate In maniera Abbastanza diversa Come le usiamo oggi Le mettiamo In questa maniera Fine in fondo E una qua Ok Perfetto Mettiamo a questo punto Qua Uno sticky piston E il nostro meccanismo Funzionerà in questa maniera Ho un blocco sopra la testa Sì Ok Posso levarmi da qua Perfetto Quando l'oggetto arriva Come vedete Qua la scala è curvata Quindi non può arrivare Fino in fondo Ma normalmente Sarà ritratto Perché qua Avremo una Pressure plate Di legno Ok Ora vi spiego bene State tranquilli Ok Via questo Pressure plate Blocco di ferro Per ricordarmi Che è un Un blocco Che sto utilizzando In una costruzione Particolare E via Ok Come vedete Qua Lo sticky piston È ritratto Quando però Gli oggetti passeranno Toccheranno la pressure plate E il pistone Verrà ritratto In questo modo La scala è dritta Un tunnel E possono arrivare Gli oggetti Fino in fondo Ok Adesso Scaviamo da questo lato Questa È molto più tecnologico Dell'altro Non so ancora bene Se è migliore Sotto ogni punto di vista Ma vedremo Ok Mettiamo una torcia lì E un pistone normale Che però Non mi sono portato Datemi un attimo di tempo Per andarlo a prendere E già che c'ero Ho preso un po' d'acqua Allora Abbiamo la nostra pressure plate Da un lato Abbiamo messo una torcia E abbiamo Un pezzetto di reston Per alimentare Di qua Mettiamo semplicemente Un pistone Lo accerchiamo Completamente Ok Fatemi Guarda un attimo Il cerchio E creiamo qua Un piccolo bacino Idrico Strani bug Che non so spiegare Ok Blocco 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 Anche qua Va E qui Sarà tutto sotto terra Ma per il momento È così Mettiamo qui Un secchio d'acqua E lo mettiamo così A questo punto Per semplificarmi la vita Premo questo bottone Come vedete L'acqua va indietro Allora Non è un errore State tranquilli È tutto completamente Voluto Andiamo indietro Anche noi Ok No Ancora di uno Allora forse Uno Di qua dovete contare Il bordo Uno Due E qua fate Un altro bordino Che è praticamente Identico a quello Che abbiamo appena fatto Ora vi faccio vedere Questa piccola colonnina Ma senza il pistone Ok Qua abbiamo trovato Una bella caverna Per il momento Freghiamocene Ok Tac Se non ci fosse tutta Sta sabbia Sarebbe Semplicissimo Lavorare qua Però purtroppo La sabbia c'è Ok Scaviamo qua Blocco Togliamo questo Uh Che sfortuna Di un blocco Siamo fuori Siamo messi male Prendiamo quest'acqua Leviamocela Dalle scatole Qui mettiamo Due blocchi solidi E mettiamo La nostra acqua Che vada Allora Potete notare Che quali oggetti Rimbalzano Un attimo Un cartello Quali oggetti Rimbalzano avanti e indietro È un comportamento Che noi vogliamo evitare Quindi Leviamo questi due pezzi E li sostituiamo Con blocchi solidi Ok Qua credo di aver rimosso Sì infatti Un blocco Che non dovevo levare Ok Che pressor plate Ce la posso fare A metterlo Nel punto giusto Ok Messa Ok Come vedete La pressor plate Non è più Messa E abbiamo quindi L'acqua che va Quando però Un oggetto La premie Avremo un getto D'acqua Che lo blocca In mezzo Questo è per fare In modo Che non si ammassino Troppi oggetti Lì Il motivo È che Le meccaniche Di questi ascensori Sono molto delicate E quando gli oggetti Diventano stack Possono romperle Molto facilmente Proprio per questa ragione Abbiamo qua Tutto coperto A dovere Datemi un attimo Troppi blocchi Sto sprecando Una quantità Di blocchi Di peri Abominevole Ok Abbiamo questo Canale laterale Penso l'abbiate Visto Questo punto Che serve Ad allineare Gli oggetti Sul fianco In modo che Possano passare Attraverso La scaletta Il nostro Canale originale Se La sabbia Mi concede Di passare Sarà messo Qua Ok Dovete contare Qui abbiamo lasciato Due blocchi Dovete contarne Tre da questa parte Ok Andate via Per sempre Uno Due Tre E qui abbiamo Questo Bloccherà L'acqua Un secchio D'acqua Ce l'ho ancora E lo mettiamo Qua A questo punto Il nostro ascensore È quasi completo Gli oggetti Arrivano di qua Vengono allineati Sulla destra Di qua Quando arrivano La pressure plate Creano un piccolo Scompenso Qua Per fare in modo Che non facciano Lo stack E una volta Che passano Lì sotto Possono passare Perfettamente Senza il ben che Minimo L'unico problema Che abbiamo Ancora È che Gli oggetti Potrebbero arrivare Troppo velocemente A Come si chiama Nel punto Che li manda Di lato Per questa ragione Togliamo Questi due pezzi Di ghiaccio E li sostituiamo Con blocchi Solidi Normali In questo modo Ripetiamo Tutte le meccaniche Che ci sono I nostri oggetti Arrivano Vengono un attimo Rallentati Come vedete Blocco di ghiaccio Ancora Blocco solido Blocco solido Arrivano qua Due blocchi solidi Perché tanto è inutile Mettere il ghiaccio E qui abbiamo Che vengono Accelerati di nuovo E vengono Messi Dall'angolo giusto Mi raccomando Quello dove avete Il buco delle scale Una volta arrivati qua Arrivano alla pressure plate E passano Senza problemi Lì sotto Però premendo Questa Questa Fa in modo Che la scala Va in fondo Modifichi L'hitbox E quindi Gli oggetti Verranno sparati Verso l'alto Nel nostro ascensore Cosa succede Però anche Quest'acqua Arriva indietro E fa in modo Che gli oggetti In più Non vengano Non formino stack Cosa che rallenterebbe Il nostro processo Adesso facciamo Il giro di prova Per vedere se funziona Buttiamo un attimo 43 pezzi di resto Eccoli lì Vengono messi sul fianco Arrivano lì Premano la pressure plate E puff Eccoli qua Arrivati perfettamente In cima Forse non mi credete Perché effettivamente Il salto è stato Un pochettino poco Ok Un attimo solo Guardate che Il lag dei blocchi È abominevole Ok Ci dovremmo quasi essere Ok Così dovrebbe andare Ho messo qua Al posto Degli zombini vecchi Al posto Degli zombini vecchi Il nostro ascensore In questo modo Vedremo anche Gli oggetti passare Vediamo a questo punto Se funziona Come ho detto O se sono un charlatano Sia io Che Ryan Adams Ma non credo Nessuna delle due cose Vai Io un pochettino Un charlatano Non so I nostri oggetti vanno Toccano la pressure plate L'oggetto si attiva E dovrebbe essere arrivato Qua sopra Sano e salvo Con questo Manderemo gli oggetti I nostri villager Penso di poter concludere qua Anche perchè sta arrivando La notte Direi che queste sono Le modifiche più grosse Che farò Per quanto riguarda I villager Li costruirò la farm Più o meno esattamente Come era all'inizio Quella dei villager Andate a rivedere Lo scorso episodio E il resto E il resto delle riparazioni Più o meno lo stesso Userò i vecchi modelli Che ancora funzionano Ci tenevo a fare Queste due modifiche Una perchè Così abbiamo più spazio Per gli zombie piccoli E però Ho dovuto modificare Anche i propri canali E due Questo ascensore Veramente ottimo Che posso linkare In descrizione Anche perchè Non avevo linkato L'autore Nello scorso video Direi quindi Di concludere qua Se il video vi è piaciuto Per favore Commentate Se volete Mettete un mi piace Iscrivetevi al canale Grazie mille Per aver guardato E al prossimo episodio Ciao a tutti